Noi partiamo sempre con l'idea di non voler prendere gol, però cerchiamo di proporre un'idea difensiva abbastanza complessa, però cercando di stare alti, siccome siamo giovani riusciamo a recepire anche abbastanza bene le informazioni che ci dà il mister. Secondo me è per migliorare l'attenzione ed esperienza, perché comunque l'esperienza la fai giocando e l'attenzione invece è quella che secondo me è importantissima per un difensore, ma è anche una cosa difficile, perché tenerla sempre al massimo per 100 minuti è sicuramente la cosa più difficile. Però anche nella stanchezza, nella difficoltà fisica bisogna cercare di starli con la testa e cercare di non prendere gol, gol magari evitabili come abbiamo subito secondo me, cioè potevamo ovviamente averne subiti meno. Sicuramente le vittorie aiutano, comunque tutto l'ambiente, perché l'ambiente è più sereno, si riesce a lavorare meglio, quindi secondo me ci possiamo arrivare veramente bene. Loro comunque sono una squadra molto forte e fastidiosa, ma secondo me se la prepariamo come sappiamo fare, riusciremo a fare bene e a metterli in difficoltà. E ovviamente a puntare alla vittoria come facciamo sempre quando scendiamo in campo. I punti secondo me sono importanti ugualmente, cioè sia con i conquisti contro l'ultima in classifica che con la prima, diciamo. E comunque secondo me abbiamo dimostrato di poterci giocare sia con le prime che con le ultime. Da parte tua comunque c'è la volontà, a prescindere di rimanere, poi magari i contrattempi sono dietro l'angolo, però così a bocce ferme c'è la volontà di rimanere. Sì, parlandone così su due piedi sicuramente. Poi ovviamente bisogna anche vedere le condizioni, ma se me lo chiedete così su due piedi secondo me si può fare.